Uno dei nostri difetti era proprio la cromatura. Un giorno ho trovato un apparecchietto che misurava, si chiama Magna Gage, che misurava lo spessore del nickel. Allora ho portato a casa nella valise questo piccolo apparecchio, ho controllato i parafanghi della Fiat, avevano due micron, i miei avevano due e mezzo, tre micron, i pezzi delle varche americane avevano 7-8 micron. Allora ho detto, qui il segreto è lo spessore del nickel. E abbiamo fatto un impianto di cromatura come Dio comanda, con le apparecchiature più moderne, e ho detto se la Criscram mette 7-8 micron io devo fare tre volte tanto. E siamo arrivati, durano ancora adesso, guardi questa barca qui ha 20 anni, guardi com'è. Infatti qui, qui ci sono almeno 20 micron.